Grazie 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 Ma cosa sta dicendo? Che cosa sta dicendo? A noi A noi A noi A noi A noi Però mi faccia dire qua entro Lei sa cosa c'è? Cosa c'è? Non ci hanno uscita Non ci hanno uscita No, non ci hanno uscita Non ci hanno uscita Ma adesso è sempre il signor Grazie 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 Per te E' per noi Per noi tutti Io sto facendo un giro di territorio Per affrontare le persone Io non sto soltanto per dare l'applausi Anche le crisi Anche le crisi La signora stascia la crisi Cos'è la signora che se lei fa una critica Il 15 mese Tulizia Ascheria Dittatura E tutto quel cos'è For Calderone Il dialogo è difficile Non funziona così Lei vuole un dialogo Abbiamo affermato tutti Se lei parla di dittatura Tulizia Ascheria Abbiamo dei soldi E fa questa condizione Il dialogo è difficile Questo è il governo Questo è il governo Consiglio E adesso D'anni stiamo confinati E il governo Che ha messo Più soldi Per l'economia italiana Dopo quello Noi siamo andati in defici Oltre 100 milioni Abbiamo preso 209 mila Scusi però Così Io non so Lei chi appoggia E non lo voglio sapere Però questo è il governo Che è andato Lei è una giustiziera Ci vedo le cose In giusto Mi scalpo Lei questo è il governo Che è andato in Europa Ha portato in Italia 209 miliardi Sarebbero arrivato qua Mi faccia parlare La cosa dice Ma che stessi le dici Abbiamo dovuto combattere Un corpo a corpo In Europa Per portare 209 miliardi Che nessuno ci vuole dare Ma che cosa sta dicendo Abbiamo dovuto lavorare Mesi e mesi Per portare quei soldi E le assicuro Che quando io E' iniziata A lavorare Nessuno in Italia A partire dai partiti opposizioni Non ci credevano Ci prendevano in giro E quando sono arrivati i soldi Ricordiamolo I partiti opposizioni Hanno detto E' una fregatura Vi ricordate quando dicevo E non vanno presi Perché è una fregatura E' una dittatura 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 Signora Ma lo vede Quanta gente Sta morendo Mio figlio ha buttato 400 euro di multa Mio figlio io a casa Sono una donna separata E non ho punto da pagare Mio figlio ha buttato utan E non ho poo didier Hanno detto